Formato simile al monitore di Roma, su due colonne. Niente freggi, una barra, una data, niente più. Al massimo, ecco, libertà qui e qui, egualanza. Quante copie, secondo te? Ancora nessuno sa leggere. Lazzari, soldati, bottegai, artigiani, nessuno. Nemmeno certi monaci e certi nobili di secondo rando. E allora chi andrà? I patrioti? A qualche intellettuale? Come così in famiglia. Tre, quattrocento copie, bassi ne avanzano. Quattrocento? Ma io devo arrivare al popolo. A quello di Napoli, a quello delle province. Manderò strilloni per le strade, lo farò leggere pubblicamente nelle sale patriotiche, nei mercati. Perché ridi? Perché mi ricordo del primo discorso nostro. Dicevi che volevi conoscerla bene, questa città. E ora non solo la conosci, ma addirittura ci stai dentro il governo. Sant'Ermo è preso. Ci sono morti, feriti. E Gennaro? Il cittadino Serra sta benissimo. Ciao. Grazie a tutti.